Continua l'inaspettato successo della suora di The Voice, Suor Cristina Scuccia. Lo dimostrano le oltre 25 milioni di volte che è stato visto e soprattutto ascoltato il video ufficiale di The Voice of Italy 2014 su YouTube. Il personaggio religioso è diventato virale. Tutti parlano della sorprendente suora che ha incantato e sbalordito in tv. Ma ecco una poesia che un gentile visitatore del nostro canale 25 ha lasciato tra i commenti. Si tratta dell'utente YouTube Pino Pennino ed ecco i suoi versi composti proprio per l'occasione e nel rendere omaggio a Suor Cristina Scuccia. Bisogna notare che ogni verso inizia con una lettera del nome della nuova Sister Act italiana. Ecco la poesia. Sono davvero doni del Signore, una voce, un sorriso, la fede. Ovunque portare così l'amore ridando ad altri quel che Dio concede. Con la semplicità del tuo sentire ridoni a chi ti ascolta la speranza in un mondo migliore che può venire se nel cuore c'è tanta fratellanza. Tale e sì grande amore che fa dire insieme ci può essere comunanza. Nessuno sia solo a patire, amore e vita unite in dolce d'azza. Sì, la vita è bella pur nel dolore, con tutti i suoi drammi va vissuta. Un dono grande a questo, per favore, chi non l'apprezza è lettera muta, che non sa qual è il vero valore, insieme a famiglia ancora non perduta. A te Cristina, un grazie di cuore, aggiunge Pino, e un grazie di cuore dalla redazione di Canale 25. A te, Pino Pennini. A te, Pino Pennini.